Accadde quando vidi una foto ingiallita di una aristocratica donna d'altri tempi, era bella, elegante, accarezzava col suo sguardo vellutato e profondo ed era rivolto sentitamente a tutti, ma sembrava prediligere i giovani. Gli lasciava avvolti nei suoi occhi affabili, sensuali, spirituali, fiduciosi. Lei volgeva fiduciosa il suo sguardo al futuro. Era lei, lei dice. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.